Benvenuti e parte Aria Stile ai Music Fan! Allora Luca, pochi minuti fa le prove, un po' di emozione, però è quell'emozione positiva che ci porta se poi domani. Assolutamente sì, tanta emozione. Guarda, salire su quel palco è complicato, perché poi ti passano in mente tante cose, tanti ricordi, ti viene in mente tutto il passato e tutto quello che hai fatto per arrivare lì sopra. E quando ci sei, porca miseria, c'è tanta roba. Ma poi è bello, perché ti abbiamo visto anche sui social prima del festival, a parte che l'esultanza è stato un colpo al cuore un po' per tutti, perché si vedeva proprio quella sincerità, quella volontà veramente di arrivare che poi è parte del tuo percorso. Assolutamente sì, e abbiamo festeggiato come se fosse lo scudetto del Napoli. Attenzione perché Marco è un tifoso dell'Atalanta. E vabbè, ognuno ha i suoi difetti, comunque è troppo bello stare qui, troppo. È troppo bello Sanremo, Marco io ti do il microfono perché patron di Area Stile è ormai una piacevolissima abitudine in quella che è l'hospitality del Festival di Sanremo. Benvenuti a tutti, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Per l'undicesimo anno che apriamo l'Area Stile abbiamo voluto un grande vecchio con noi, non un giovane. Un grande vecchio. Capito, un grande giovane che sta spaccando. Ho passato tanti anni, quindi ci sta. Perfetto, grazie. Abbiamo seguito Gigi per tanti anni, adesso è arrivato quello più forte. Dove sta? Perfetto. Allora, un'anticipazione, facciamolo in bocca al lupo, ok? Che crepano tutti, ok? E siamo sicuri che il pezzo è importante, abbiamo voluto lui per aprire una delle aree più importanti, interattiva, perché poi faremo un gioco con i tiktoker che ci incontreremo in settimana. Ok. Figata, figata. Ok. Grazie, ma il mio sogno in realtà non è tanto Sanremo, ma voglio tagliare il nastro. È una cosa che non l'ho mai fatto in vita mia. Forza LDA, grande! Ci siamo? Via! Via! Benvenuti a D'Area Stile! Benvenuti a tutti, benvenuti a tutti.